Un saluto dal Tg della Mobilità oggi dalle 9.30 ad Ostia sino a Cessate Esigenze e quarta edizione della manifestazione ciclistica dalle cupole al mare. Il percorso sarà da Largo Villani, Altezza via Bonichi, per via Previati, via Brea, via Di Saponara, sentiero Argine Canale Palocco in direzione sud sino a via Alessandro Magno, via Timante, la pista ciclabile di via Cristoforo Colombo sino all'incrocio con Lido di Castelporziano, attraversamento della Colombo, la Pineta, via del Castelporziano, via del Lido di Castelporziano, via dei Transatlantici, via Ferrandi, Lugomare Vespucci e Lungomare Luttazio Catulo e Duilio, via e Borghetto dei Pescatori, deviazioni o rallentamenti per 9 linee di bus. Per ora è tutto, appuntamento alla prossima edizione.